Novità assoluta di quest'anno nei finanziamenti Simest è la misura per la transizione ecologica e digitale delle PMI esportatrici. Questa misura è riservata alle piccole e medie imprese che siano costituite in forma di società di capitali, che abbiano almeno il 20 per cento di fatturato con i mercati esteri e che quindi possono beneficiare di questa misura che è in parte a fondo perduto per una quota del 25 per cento ed in parte con un tasso molto molto agevolato. Le spese ammissibili che possono essere riportate appunto per chiedere questo finanziamento, per fare un esempio, sono le spese relative alla digitalizzazione dell'impresa, digital media manager, così come quelle relative ad investimenti per Industria 4.0 e alla sua formazione, l'efficientamento energetico dell'azienda e le certificazioni ambientali. Per valutare i vostri progetti e quindi la fattibilità della richiesta del finanziamento potete contattare i nostri uffici.